Ciao ragazzi, oggi due bilance perché iniziamo parlando di muscoli, ma muscoli che non pesano. Vi siete mai chiesti perché nell'alta fedeltà molti appassionati soffrono di mal di schiena? Beh, riaccendiamo la bilancia e vado a prendere il mio sintesis Roma 96 DC Plus da 25 Watt. Lo vedete lì, si leva le mani, 17,8 kg, un bestione valvolare con signori trasformatori, ma pesa quasi 18 kg. E se invece prendiamo un cincicchietto da soltanto 50 Watt, come soltanto? È il doppio della potenza. Quanto pesa? Lo vedete, 1,4 kg, più di 10 volte meno. E questo piccolino, magari abbinato con il suo DAC che decodifica DSD e MQA, come andrà? Beh, lo vedremo insieme, tirandoli fuori innanzitutto dalle scatole. Ecco qui la prima scatolina, quella più piccola, quella per il DAC, Sabai A20D. Chissà come si pronuncia Sabai. Scatola molto semplice, in bianco e in nero. Andiamo subito ad aprire. Troviamo subito un po' di carta in lingua orientale, ma abbiamo dei QR code volendo andare a leggere. Manualetto di istruzioni, qui tutta lingua orientale, ma sì, ecco dietro c'è comunque la parte in lingua inglese. Poi, dotazione. Troviamo un bel telecomandino classico, di materia plastica, su cui vanno due mini stilo. Dopodiché, l'alimentazione è di tipo switching, con un alimentatore che è praticamente da 15V, 4A, quindi 60W, targato Sabairo, quindi non è anonimo. Poi, l'antennina, piccolina e carina, quindi quello che potrebbe essere per il Bluetooth, USB, cavo semplicissimo, di qualità normale. E questo potrebbe essere il cavo di alimentazione, vediamo se è adatta alle nostre prese italiane. Vediamo, sì, la risposta è sì. Classico cavo di alimentazione da collegare all'alimentatore di tipo switching. E qui sotto il sacchettone c'è questo bel lingotto. Eccolo qui. Vi dico che al peso rimane leggero, esteticamente wow, lucido, bella la manopola, già bella la sensazione, può essere premuto e ruotato. E su il retro, tutte quelle che sono le connessioni. Quella per l'antenna, quelle praticamente di tipo a masse separate, XLR, sono le uscite, scusate, le uscite, quindi quelle praticamente bilanciate, quelle invece non bilanciate, il coassiale, il tipo I2S, ottico USB e l'ingresso alimentazione. Ma passiamo alla seconda scatola. Ecco qui la seconda scatola, infatti dovuto leggermente allargare perché sì, è più pesante, più grande, amplificatore ad alta risoluzione, a 20A. Anche qui andiamo ad aprire la scatola, sembra questa estetica nera e bianca. Cosa troviamo invece qua dentro? Anche qui c'è un QR code per andare a trovare quello che è il manuale di istruzioni. Ah, qui c'è anche uno slogan. Per la felicità dell'ascolto. Ok, qui il manuale ma come nel caso precedente è da una parte lingua orientale e dall'altra parte lingua inglese che dopo vado a studiarmi. Anche qui troviamo un telecomando che è identico a quell'altro, secondo me dovrebbe bastarne uno solo per tutta l'accoppiata DAC più amplificatore. Dopodiché abbiamo una cosa interessante perché abbiamo un connettore per alimentare in cascata probabilmente il DAC. Più qui il cavo alimentazione con la presa di tipo sciuco da una parte e dall'altra il classico connettore tipo IEC. E qui c'è il bimbo. Sì, questo pesa ragazzi. Infatti mi scivola. Leviamo la classica bustona bianca. E anche qui estetica con questo frontale lucido. Qui c'è lo schermetto. Manopolina anche questa cliccabile. E sul retro sì, abbiamo questa cosa qui. Allora, qui abbiamo gli ingressi appunto, quelli sbilanciati. Andrò probabilmente qui a collegare quello che è il nostro DAC. Ma abbiamo anche quelli classici su RCA. Quindi bilanciati e sbilanciati. L'uscita per il subwoofer molto interessante. E l'uscita per alimentare direttamente il DAC direttamente da qui. L'uscita verso quelli che sono i diffusori piccolini. Un po' tanto piccolini. Dato vedremo come vanno con i miei connettori a banana. E qui il tastone per accensione con la presa di tipo IEC. Infatti adesso andiamo a mettere tutto insieme. E vediamo un po' come si animano le parti davanti con i display. Prima di collegare e accendere, ho voluto il mio spizio di togliere quattro viti e vedere come è realizzato all'interno. Questo qui il DAC, la 20D. All'interno è quasi vuoto. Ci sono due schede. Una praticamente per la parte digitale. Dove vedete corrisponde con tutti gli ingressi. E poi sopra collegata una semplicissima piattina. C'è invece tutta la parte analogica con quelle che sono le uscite. All'interno c'è praticamente il processore che è un S9038 Pro. 32 bit su 8 canali. Lavora benissimo. Ma continuiamo ad aprire. Ecco qui, questo è la 20A, quindi l'amplificatore. Anche lui all'interno struttura ordinatissima. Due schede parallele. Quella più in basso è quella di alimentazione, che è alimentazione comunque di tipo switching, ma comunque viene utilizzata anche in ambito medicale, quindi è filtrata e stabilizzata. Ci possiamo affidare magari la nostra vita, ci potremo affidare anche il nostro ascolto. Al suo interno, purtroppo posizione non raggiungibile perché ci sono poi le due piattine qui in fondo che collegano il display, ci sono i due chip Infineon MA12070, che sono gli amplificatori digitali che permettono, insomma, di spingere forte. Considerate che il suo 2 Ohm viene accreditato da 150 Watt. Davvero tanta, tanta roba. Ma sì, adesso basta guardare dentro, vado a richiudere tutto e poi lo accendiamo. Ed eccoli collocati sulla mia scrivania, talmente compatti che hanno lasciato lo spazio anche per il maggiolone della Lego. Comunque, in questo momento sono i stand-by perché l'interruttore dietro, quello vicino all'ingresso IEC, è acceso, ma poi ho fatto lo stand-by. Lucina rossa, premiamo allungo, si accendono A20A, A20D. E vedete che l'alimentazione in cascata è molto comoda, come i vecchi impianti, quelli sovrapposti di una volta, si accende uno, si accendono tutti. E iniziamo l'analisi proprio da quello che è il DAC, l'A20D. Vedete sui display sotto indicato l'ingresso e il volume, e qui sempre l'ingresso e quelli praticamente che sono i kHz 44,1 collegati via USB. Con la manopola possiamo andare ad abbassare il volume, perché volendo potremo collegare soltanto lui a dei diffusori amplificati e diffusori attivi, controlleremo il volume con questa manopola. Utilizzandolo però come sorgente, la mettiamo al volume massimo che è 0 dB. Poi con le varie pressioni andiamo a scegliere quelli che sono i vari ingressi. Bluetooth 5.0 di tipo aptX, quindi altissima qualità. L'USB, l'ingresso ottico, l'ingresso quassiale e l'ingresso di tipo i2S. Ricordiamo che lui arriva fino a 32 bit, 768 kHz. Quando ovviamente andiamo a mettere su della musica ad alta risoluzione, sul display vedremo effettivamente i kHz che stiamo ascoltando in quel momento. Andando avanti, sempre con la pressione, dopo l'ingresso possiamo scegliere quelli che sono i filtri PCM. E ne abbiamo ben 7 tra cui selezionare e quindi cambiare la resa, la pasta sonora. Ma abbiamo anche cose raffinate. Possiamo controllare il DPLL per controllare la rimozione del digiter. Sulle ingressi i2S possiamo andare a scegliere quella che è la modalità normale invertita, il canale DSD, la bandiera flag DSD e infine un dettaglio, quella che è la luminosità, brightness, di quello che è il display. E questa è la parte DAC. Ma passiamo sotto alla parte amplificazione. Giustamente la manopola è il volume, né più né meno. Poi con la pressione a quel centro possiamo passare da un ingresso all'altro. Ah, e noi sono solo due. Io sull'ingresso 1 ho messo appunto il DAC, sull'ingresso 2 ho messo l'uscita dell'audio della mia Xbox Series X per quando voglio giocare. Ma il giradischi e poi magari il mio lettore di cassette, no, sono due ingressi di numero. Se vogliamo sono questi i suoi più grandi limiti. Solo due ingressi e niente uscita cuffie. Se vogliamo avere l'uscita cuffie dobbiamo comprare un altro modulo esterno e collegarlo non a lui perché lui non ha delle uscite passanti, ma sfruttare le sue due uscite. Il DAC, l'abbiamo visto prima, ha un'uscita bilanciata e una sbilanciata. E con queste due dobbiamo giocare una verso l'amplificatore e una verso l'eventuale amplificatore cuffie, perché l'uscita non c'è. E poi abbiamo l'equalizzazione. Purtroppo sono soltanto delle letterine. Dovremmo andare sul manuale e vedere che il Super Bass, i bassi pompati, corrisponde ai 5, quindi dovremmo andarceli a ricordare. Poi possiamo andare a scegliere un minimo equalizzazione regolando gli alti, che possono andare da meno 9 a più 9, treble. Poi possiamo andare sempre sui bassi bass, sempre da più 9 a meno 9. E l'ultima cosa che possiamo impostare è sempre la luminosità, il brightness di quello che è il display. Attenzione, non c'è il bilanciamento. Se abbiamo una situazione in cui il nostro triangolo d'ascolto non è così preciso, non possiamo spostare la destra e la sinistra. Stranamente, è una cosa banale dal punto di vista di elettronica, non hanno messo il bilanciamento. Ovviamente, possiamo utilizzare il telecomando. E come vi dicevo all'inizio, il telecomando è unico, ne basta uno. Possiamo, vedete, andare ad abbassare il volume. Possiamo andare a mettere il mute che ha una sua iconcina ben evidente sopra. Possiamo andare a fare giustamente lo spegnimento e vedete come si spegne tutto come un unico sistema. E poi, utilizzando il tasto C, passiamo sopra. Infatti, adesso, se io vado ad abbassare il volume, vedete, si sta abbassando il volume del DAC. Se dobbiamo tornare sull'amplificatore, premiamo A e torniamo, vedete, sotto sull'amplificatore. Quindi, telecomando ottimo, con uno solo controlliamo davvero tutto il sistema. E adesso, sì, facciamo un attimo il giochino dell'ascolto. I got my little house, I live in it I got my little babe, I feed her I got my little pills, I take him I got my little kids, I made him I got my little car, he takes me everywhere I want to go I got my credit card, I'm such a wicked millionaire Cause everything is under control 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 Ragazzi, ve l'ho detto prima, ma ve lo ricordo, la prova d'ascolto è un gioco. Perché non avete ascoltato la resa di questo impiantino della Sabai, in realtà avete ascoltato soprattutto il mio ambiente, il mio microfono e il vostro sistema di riproduzione. Quindi è un gioco. Però la spiegazione di perché quel brano e come, secondo me, va fatta una prova d'ascolto ve lo lascio su un video qua sopra. Ma andiamo in dettaglio a vedere com'è il suono di questa accoppiata della Sabai. Potenza, gli do 8, ma attenzione, non è perché distorce, no. Lui spinge bene, spinge forte e non distorce mai. Però il 50 Watt non sono una potenza così incredibile. Se lo so, ci sono persone che ascoltano con 10 Watt valvolari, ma dipende che diffusori gli abbini e qual è l'ambiente in cui lo va a inserire. Con un ambiente molto grande e un diffusore, insomma, un po' duretto, con una sensibilità bassa che quindi ha bisogno di parecchi Watt per suonare in maniera adeguata, insomma, 50 Watt non sono poi così tanti. Poi, bassi 8, medi 10, alti 9. In realtà, questa pagellina sulla risposta in frequenza è molto simile a quella delle mie KEF LS50. Vi rimando il video dedicato qui sopra, che in fondo, quella che la resta sonora dipende molto dai diffusori e rispecchia quella, insomma, delle mie KEF a parte in gamma bassa. Sia un basso definito e controllato, ma non proprio così controllatissimo. Su alcuni brani tosti in gamma bassa un po' si perde, quindi lì infatti non gli do il 9, che è il valore che do alle mie KEF LS50, ma gli do un 8. Su qualcosa leggermente si perde. Gamma media resa benissimo, gamma alta resa benissimo. Insomma, rispecchia quello di cui sono capaci le mie KEF LS50. Come dettaglio gli do 8, un punteggio molto alto, perché effettivamente il punto di forza di questa coppietta di Sabai è proprio il DAC, a cui non mi sento di dire nulla di male. Ne parliamo tra poco. Carattere 7, siamo sopra la sufficienza, ma abbondantemente direi un 7,5, perché è un sistema che si fa apprezzare, grazie all'ottimo DAC, ve lo dico e lo ripeto, e grazie anche al fatto di potercelo anche gestire. Un impianto che è godibile, ma è stancante, e lo possiamo adattare ai nostri gusti. Sul DAC abbiamo i filtri che possiamo selezionare, sull'amplificatore abbiamo le equalizzazioni, le relazioni degli alti e dei bassi. Insomma, ce lo possiamo cucire addosso ai nostri gusti d'ascolto. Ma ricapitoliamo. Cos'è che mi è piaciuto? Innanzitutto, la potenza, comunque specialmente relazionati ai miei diffusori e al mio piccolissimo ambiente d'ascolto, c'è, spinge, spinge forte. Insomma, quando voglio litigare con i miei condomini, qui posso farlo. Mi piace il dettaglio. Un DAC davvero eccellente, che poi, se pensate di abbinarlo a un impianto un po' più importante, prendete solo lui, e insomma, anche con un impianto raffinato, buttiamolo là, riesce a tenere fuori delle ottime carte. Mi piacciono gli ingombri. Poniamo che voi dite, ok, io sulla mia saletta, dove c'ho il televisore e una bella libreria, voglio aggiungere un DAC, perché lui, avendo l'ingresso ottico, si abbina benissimo a un televisore, un amplificatore che all'uscita per subwoofer è importante, ma voglio che questi due componenti scompaiano nell'ambiente. Ci siano, ma non debba essere qualcosa che urla. Sono neri, con questo parte davanti in plexicas lucido, quindi eleganti e scompaiono. Sono piccolissimi. Mi piace il fatto che abbiano tanti controlli. Queste manopole sono fatte bene, non hanno dei giochi che si vanno a perdere. Ogni ticchettio corrisponde al valore che si cambia. Il display è bello grande. Sabai ha fatto un altro amplificatore, vi rimando qui sopra la mia prova, che non si leggeva il display. Io porto già gli occhiali, li ti accecavi. Qui invece, numeri belli cicciotti, anche a distanza, si legge bene. E cosa apprezzata? C'è il telecomando, quindi per l'appunto, per un uso da televisione, quindi da divano, lo controlliamo tranquillamente. con il suo telecomando. Ultima cosa, non meno importante, il prezzo. Vi ricordo sempre, se volete informarvi sulle caratteristiche e se volete acquistarlo, link in descrizione. Allora, l'amplificatore costa poco. Ad oggi sta a 239 euro. Il DAC costa un bel po' di più. Sta a 459 euro. Ma, vi ripeto, quel DAC è davvero eccellente. supporta anche il formato MQA, che è quello di Tidal, che costa, perché effettivamente non le licenze, quando riesce a decodificare questo formato. Il DSD si spinge molto, molto alto. Insomma, tanta, tanta roba. Ma, invece, cos'è che non mi piace? Guarda caso, non mi piace, sono tutti riferiti all'amplificatore. manca l'uscita a cuffie. È anche una scelta di marketing, perché c'è il modulo amplificatore a cuffie dedicato. Però ti costringe a comprarla a parte. Sì, quello è eccellente. Anche l'uscita a massa separate. Ma, insomma, metterci una piccola uscita a cuffie di servizio, di spazio, ce n'era in abbondanza. Mi dispiace il fatto che ci siano solo due ingressi. Certo, questa forma così piccolina e compatta non sarebbe stata possibile, però avere due ingressi di numero ti mette in difficoltà, perché appunto io ho il DAC, il giradischi, lettore cassette, l'Xbox Series X, ecco qua, quattro ingressi mi servono. E quindi due cose le collego e altre due. Purtroppo no. L'ultima cosa è un dettaglio, tra mille controlli che abbiamo, il controllo del bilanciamento manca. Allora, se avete un triangolo d'ascolto ideale, ve l'ho detto, non è un problema, ma in alcune situazioni vorreste avere e amare il diffusore che è più vicino con un'uscita meno forte e qui purtroppo non potete farlo. Sabai, aggiungilo, che è una sciocchezza dal punto di vista elettronico. Bene ragazzi, anche questa giustiziazione si è conclusa, ci stiamo avvicinando al Natale e insomma arriveranno tanti bei video belli soccosi e corposi e anche delle iniziative da fare insieme. Quindi mi raccomando ragazzi, mettetevi sempre un bel mi piace, iscritti e campanellina attiva e con questo vi saluto ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.